Consigliere Pomante si sta trovando la quadra per quanto riguarda l'andare dal notaio, adesso c'è anche il PD che ha accettato la sua proposta. Sì, sono lieto ovviamente che anche loro abbiano accettato l'invito a rassegnare le dimissioni dal notaio perché ormai ce lo chiedono i cittadini di porre fine a questa esperienza politica. C'è, deve essere una cosa ben chiara, qui non vince nessuno, sta vincendo solo la città di Teramo, non è una vittoria di Pomante, non è una vittoria dei consiglieri che rassegneranno le dimissioni, c'è soltanto la sconfitta di una politica che non è riuscita a dare risposte a questa città. Quindi deve essere ben chiaro che è una vittoria della città di Teramo e che i consiglieri sono uniti nell'interesse della città di Teramo. Oggi pomeriggio concorderemo semplicemente una nuova data per riunirci per firmare le dimissioni e verificheremo insieme che l'atto sia in ordine, che l'atto sia a posto dal notaio perché c'è l'indisponibilità di un consigliere del PD che ha impegni familiari e quindi non potrebbe partecipare. Ragionevolmente ci aggiorneremo a lunedì o martedì pomeriggio. A questo punto la strada è segnata? Sembra di sì, ormai i numeri ci sono quindi non ci dovrebbero essere problemi a rassegnare tutti insieme le dimissioni e a provocare lo scioglimento del Consiglio. Breve commissariamento e poi elezioni alla data che stabilirà il commissario secondo la legge. Viste anche le dichiarazioni del sindaco di questa notte, gli suggerisco a questo punto ancora una volta di rassegnare le dimissioni perché almeno avrebbe l'onore delle armi. Se continuasse su questa sua strada obiettivamente non farebbe una bella figura. Dimissioni irrevocabili secondo me potrebbero accontentare tutti.